La 46esima edizione dei premi internazionali Enio Flaiano, promossi e organizzati dalla Fondazione Edoardo Tiboni e dall'Associazione Culturale Enio Flaiano, quest'anno raddoppia con ben due cerimonie di premiazione che faranno della città di Pescara un grande palcoscenico di celebrità. I premiati delle storiche sezioni di letteratura, teatro, cinema, televisione e radio riceveranno l'ambito Pegasodoro nell'ambito di due distinte serate che saranno trasmesse in diretta su Rete8. Si comincia sabato 6 luglio alle ore 20.30 all'Aurum di Pescara con la consegna dei premi ai vincitori della letteratura con un'importante novità. L'introduzione della sezione di narrativa giovani, sostenuta dalla Biperbanca, è riservata agli autori al di sotto dei 30 anni che si affianca alle tradizionali sezioni della narrativa e dell'italianistica. Poi, domenica 7 luglio, sempre alle 20.30, in Piazza Salotto a Pescara, saranno decretati i vincitori delle sezioni di teatro, cinema, televisione e radio. Intanto, questa mattina, presso il Media Museum di Pescara, sono stati svelati i nomi delle tre terne dei finalisti della letteratura. Per la sezione di narrativa, la giuria tecnica ha selezionato gli ultimi giorni di Anita Ekberg, di Alessandro Moschè per Melville Edizioni, l'Invenzione del Vento di Lorenzo Pavolini, edito da Marsilio, e Almarina di Valeria Parrella per Inaudi. Nella terna dei finalisti della narrativa giovani sono stati segnalati dalla stessa giuria tecnica Una volta e abbastanza, di Giulia Ciarapica per Rizzoli, Cosa resta di male, di Gianmarco Soldi, sempre per Rizzoli, ed Elena di Sparta, di Loretta Minutilli per Baldini e Castoldi. Per il diciottesimo premio internazionale di Danielistica, volto a promuovere la diffusione della cultura italiana nel mondo, i membri della giuria tecnica hanno invece selezionato le seguenti opere. Eugenio Montale, Portami il Girasole, poesie scelte dal 1918 al 1980, di Annie Marie Eino, da Helsinki, Fellinis Eternal Rome, di Alessandro Carrera, da Los Angeles, e Gioventù Pierpaolo Pasolini No Seishun, di Ciseko Tanaka, da Tokyo. I vincitori delle tre sezioni di letteratura saranno decretati in diretta durante la serata del 6 luglio e saranno scelti dalla giuria popolare dei lettori del premio. Tra i 100 giurati lettori, che sceglieranno il vincitore della sezione di narrativa giovani, sono inseriti da quest'anno anche 18 detenuti della casa circondariale di Chieti. Al nostro microfono Carla Tiboni, presidente dei premi internazionali a Nioflaiano. Quest'anno, per quanto riguarda la narrativa, c'è stata una partecipazione altissima di scrittori. Sono arrivati circa 86 libri, dalle case editrici più importanti a quelle minori. In più c'è l'italianistica, i libri sono arrivati da tutto il mondo, da 18 nazioni, e questo aiuta ancora di più il Flaiano nel proprio progetto culturale, che è quello di diffondere la cultura.